Ciao brava gente, oggi vediamo un modo che funziona su tutti i computer con Windows 10 per riuscire a sfruttare la dettatura vocale, ovvero per poter scrivere sul computer parlando a voce, lui interpreta e scrive e questo funziona in tutti i programmi. Allora, la prima verifica che bisogna fare è qui, bisogna cliccare sull'icona che rappresenta il volume delle casse, tasto destro, apri impostazioni audio, dopodiché l'output, vabbè, è quello lì, l'input bisogna scegliere quello del microfono che state usando, quindi io in questo momento ho due microfoni disponibili, uno che non è collegato ed è una scheda audio USB, questo invece è quello interno del computer e io scelgo questo. Bene, fatta questa impostazione, l'altra cosa che bisogna fare è dare la possibilità di accesso alla tastiera virtuale, quindi si fa tasto destro più o meno in questa zona, tra queste opzioni di visualizzazione scegliamo mostra pulsante tastiera virtuale, scusate ho ricevuto un messaggio, e vedete che è comparso questo, ok? Allora adesso apriamo un qualsiasi programma di testo o di scrittura, io prenderò blocco note, dopodiché mi posiziono nell'area di scrittura, adesso sto usando la tastiera normale, cancello, quindi sono sicuro di essere nell'area dove posso scrivere, tocco l'icona della tastiera virtuale e scelgo quest'icona qua, quella del microfono, adesso la premo, provo a parlare e vediamo se scrive quello che dico, sperando nella rete perché io ho la rete da cellulare, a volte va, a volte non va, se non dovesse funzionare faccio un taglio e metto un momento in cui funziona. Ciao brava gente, spero che questo esperimento vada bene. Bene, ho ritoccato l'icona del microfono per spegnere la funzione di ascolto, diciamo, sono stato fortunato, la rete del cellulare mi ha dato una mano nonostante il periodo, quindi questo è quanto, potete farlo in qualsiasi programma volete, editor di testo ovviamente. Ciao, alla prossima.